Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Un Napoli a forza 7 come le vittorie consecutive in campionato torna di scena a San Paolo col solito obiettivo dei tre punti. L'avversario di oggi è il Carpi che ha perso solo una delle ultime sei gare. È il ventiquattresimo turno di Serie A Team, l'ultimo prima dello scontro diretto fra Napoli e Juventus. Questa è Napoli-Carpi. Stadio San Paolo ben trovati, buon divertimento. Un saluto da parte di Matteo Marcedu. È il secondo incontro di sempre in Serie A Team fra Napoli e Carpi. Fischietto in bocca. Inizia Napoli-Carpi. Primo pallone per i padroni di casa. Strette le linee del Carpi. Prova a passare in mezzo. Higuain che calcia in porta! Subito un brivido per Belez con il sinistro. Pericolosissimo è il Pipita. Cagliejon. Tocco sotto per la velocità di Zay che può andare su questo pallone. zona utile per il cross. Dentro per Higuain. Stoppa a seguire. Higuain col destro! Esterno della rete per il Pipita. Già alla seconda occasione di questo match. Zay è partito Cagliejon. Lancia proprio per lo Spagnolo. In area di rigore. Colpo di testa. Arretrato verso Higuain! Grandissima conclusione. Grandissima coordinazione. Buona risposta da parte di Belez. Letizia. Pallone ancora sul sinistro. Vecino c'è Insigne. Parte sul traversone. Colpo di testa da parte di Lasagna. Chiede il fallo Isai. Colpo di testa comunque largo. Alla destra di Reina. Parte Val di Fiore a cercare Insigne. Poi Koulibaly non riesce a calciare. La passa Cagliejon. che calcia col sinistro ma non trova lo specchio della porta. Un po' confuso lo svolgimento di questa azione. Va a chiudersi a destra. Il numero due poi riesce a crearsi uno spazio e ad accelerare sul brasiliano. Vuole arrivare al cross che viene effettuato. E poi... Ossia Maria Cagliejon. Ancora di testa per la terza volta in questa partita. Fischietto in bocca per Doveri. Inizia secondo tempo tra Napoli e Carpi. La battuta di Val di Fiori nel cuore dell'area del Carpi dove arriva Koulibaly. Higuain. Si vuole girare sul destro. Higuain calcia. Belez con un miracolo. E poi Romagnoli. Insigne fa ripartire il contropiede del Napoli. Vuole passare in mezzo a due avversari. Alla fine Zaccardo lo ferma. Con un fallo arriva il fischio. E cartellino giallo. Per Bianco. Doppio cartellino giallo. E cartellino rosso. Val di Fiori va dentro con il destro. A cercare Koulibaly. Trattenuto. Calcio di rigore. E la svolta può arrivare adesso. Parte la rincorsa del Pipita. Che calcia in porta. Con la potenza giusta. Per battere Belez. E portare in vantaggio il Napoli. Dopo 24 minuti del secondo tempo. 24 gol in 24 partite. Per Gonzalo Higuain. Sembrava avvicinarsi. Un'altra partita senza gol per il Pipita. dopo 5 gare in cui aveva segnato consecutivamente. L'ultima senza trovare il gol. Era stato nel successo per 2-1 su questo campo del Napoli contro il Torino. Dentro per Lasagna. Prepara il sinistro. Lasagna! E sfiora la traversa. Titoli di coda. Con molta fatica il Napoli. Batte il Carpi. Non molla la vetta della classifica.